Il settore dei traghetti oggi aveva un'opportunità che era l'opportunità del rinnovo delle flotte. Con la normativa AIMO 2020 si può riaprire un nuovo ciclo di cantieristica. L'Europa questo non è riuscito a coglierlo. Se l'avesse colto avrebbe aiutato soprattutto quei piccoli armatori a un piano di rilancio. Oggi costruire una nave traghetto i tempi per ripagarsi all'investimento sono superiori ai 30 anni. C'è bisogno di incentivi, di aiuto e soprattutto la cantieristica a livello europeo, tolto il bellissimo caso di Fincantieri, è una cantieristica in profonda crisi. Ci sono tanti piccoli cantieri che non sono in grado di competere con la cantieristica dalle altre parti del mondo e questo sarebbe potuto essere un volano per far ripartire questo tipo di cantieristica e per costruire dei nuovi traghetti.